I materiali didattici sono offerti da terze parti, non da TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni prese dai partecipanti e degli iscritti e decriano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL almeno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81,17% e il 73,32% dei conti dei clienti del dettaglio perde denaro facendo training con i CFD rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL EUROPE LTD. Valuta se comprendi come funziona i CFD se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Il webinar presentato da me, Giuseppe Cericola, trader e country manager Italia di TICMIL. TICMIL è un broker non di Lindesk con commissione tra le più basse del settore, spread a partire da zero, regolamentato dalla FCA UK con fondi assicurati fino a 50.000 a sterline e sono separati dalla società. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi potete utilizzare qualsiasi expert, advisor o strategia che ritenete opportuno, quindi come scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta. Non ci sono recuote, grazie alla velocità di esecuzione che è pari a 0,1 secondo come media, il prezzo può essere anche comunque seguito con uno slippage positivo, dipende ovviamente sempre dalle condizioni di mercato. Abbiamo un'ampia gamma di mercato e ovviamente oltre il Forex il CFD sugli indici come il Futsimib, Materie Pime, Metalli Preziosi e il Bitcoin. Ci sono gli strumenti di trading di ausilio al trader come Autochartist, il termometro Forex, la WPS, il one click trading e la demo è illimitata. Non ci sono costi su prelevi e depositi. Abbiamo un interessante programma partner di TICMIL che mi invito a vedere sul nostro sito e siamo tra i pochi broker a fornire l'assistenza sul capital gain. Leggete qui l'email e il sito dove poter richiedere poi informazioni. Questa è la mappa dei nostri server, quindi oltre 10 server, quindi oltre a quello di Nord Virginia, Londra e Tokyo ci sono quelle di backup. Potete controllare, oggi andremo a vedere proprio sul sito di MyFXbook diverse cose, il sito di MyFXbook fa totalmente bene che va a comparare anche gli spread e le commissioni tra i vari broker. E noterete come quelli di TICMIL quasi sempre siano tra i migliori che offre tra i vari competitor, ovviamente. Dovete andare a controllare voi stessi su MyFXbook per rendervi conto delle condizioni ultra competitive di TICMIL. Questo è un po' il record dei volumi di trading che abbiamo fatto sia settembre che ottobre, superato i 100 miliardi di volumi di trading nonostante l'ESMA. Poi siamo stati premiati come il miglior broker come eseguzione e ordine e vedete questo signore che stringe il premio, il nostro CEO, Dangan Anderson. Ok, allora, mi sono un po' segnato di alcune cose da vedere. Allora, partiamo dal termometro Forex perché devo aprire delle posizioni, perché sono le 7 e quindi devo inserire gli ordini delle 7 sull'H4. Allora, riassumo, sul termometro Forex Pro sto seguendo tre strategie. Una sul weekly, dove praticamente vado a comprare o vendere la forza in base al filtro del cot report. Questo l'ho spiegato già ampiamente nei precedenti webinar, quindi non mi soffermo sui dettagli della strategia. Poi sul daily faccio invece una scelta di acquistare la forza e di vendere la debolezza, mentre sul grafico H4 vado in modalità contraria. Quindi se vedo la forza, io la vendo, se vedo segnale di debolezza, la vado a comprare. Quindi su euro, ad esempio, adesso ho un segnale di debolezza, quindi dovrei vendere euro contro tutti. E lo faccio. E vedete che qui è aumentata l'esposizione da 0,07 a 0,14. Quindi fino a un massimo di tre contratti alla volta, quindi fino a un massimo di 0,21 per basket. Poi c'è da vendere la forza di GPP contro tutti. Ok, lo Yen mi è passato in una situazione di neutralità, quindi la chiudo, questa operazione, questo sul basket, chiudo tutto il basket Yen. Poi, allora, sul franco, quindi ha anche una situazione di forza che va venduta. Su Audi non vado a aumentare l'esposizione perché è arrivata già a 0,21. Sul CAD, che oggi sta facendo i numeri, vado a comprare questa debolezza. e NZD compro. Ok, quindi molto immediato questo tipo di strategia. Attualmente, ovviamente, come potete vedere, è in fase di drawdown. Quindi sto gestendo questa fase di drawdown su questo conto. Vediamo un po' questo mese come è iniziato un po' male. Vediamo come finirà. Quindi non ci demoralizziamo, ovviamente, quindi continuo ogni giorno a seguire questa procedura. Domani, col daily, andrò poi a gestire la situazione sul daily. Quindi andrò a acquistare la forza e venderò la debolezza. Non so quanti di voi stanno utilizzando il termometro Forex, visto che molti l'hanno richiesto. Quindi, magari, se volete lasciare anche un feedback in chat, come vi state trovando, e se avete altre, comunque, idee operative, magari ne possiamo parlare. E, come sempre, vi invito ad entrare nella chat di Telegram, perché è un po' lì il centro di tutto, perché parliamo ogni giorno di strategie e di operatività. Vi giro anche il link in chat. E, magari, riuscite ad entrare lì. Allora, adesso... Ok, questa qui, la situazione del termometro Forex è abbastanza chiara e immediata, quindi non c'è bisogno di soffermarsi troppo. Mentre un altro tipo di progetto su cui sto facendo diversi test è quello sui retail. Allora, capita proprio a fagiolo con le varie strategie che sto comunque proponendo e che comunque stiamo studiando in chat, perché MyFXbook ha rilasciato... Non so quanti di voi sono riusciti a scaricarlo, questo indicatore. Allora, innanzitutto, su MyFXbook c'è questa sezione da vedere che è il Community Outlook. Praticamente, dal Community Outlook, voi potete controllare tutte le posizioni che ci sono sul mercato del Forex per quelle persone che hanno un conto collegato a MyFXbook. Sapete tutti, ovviamente, che cos'è MyFXbook, è una specie di diario che va a comunque mantenere un po' le statistiche di quello che facciamo sul trading, e quindi tutti questi conti qui, che vedete che ho io, tutti questi conti, vanno a finire le posizioni, ovviamente, se io ho accettato durante la sottoscrizione che le mie posizioni venissero messe sotto l'Outlook, quindi vanno a finire qui. E quindi MyFXbook si è creato questa cosa molto intelligente di vedere un po' come sono posizionati i vari retail sui vari lotti. Tenendo conto che MyFXbook ha una portata globale e quindi ci sono questi volumi che non sono, anche se parliamo comunque su un mercato da trilioni di dollari, comunque questo, a mio avviso, rappresenta un buon campione statistico su cui fare, appunto, delle verifiche e magari, appunto, cercare di creare delle strategie. Allora, io queste strategie le ho suddivise perché per me non è che sto lavorando da un mese su retail. Praticamente dal 2010 che seguo un po' i retail e sto cercando di far quadrare un po' il tutto, cercando di trovare la soluzione che poi, secondo me, non esiste, però cercare un po' di capire come lavorare questo tipo di informazioni. E stavo dicendo che quindi MyFXbook in questi giorni ha rilasciato finalmente l'indicatore che è questo qui. Praticamente è un indicatore dove va a fare la, a graficare i lotti, quindi sia long che short, vedete qui, ve lo disegno, adesso su Euro-Dollaro ci sono long 13.000 contratti e short 8.500 lotti. Ok? E poi mi dà un'altra importante informazione che la, quanti sono long, che quindi il 60%, da qui, poi mi dà l'everage short dal prezzo attuale, quindi gli shortisti attualmente si trovano, hanno una media lontana 25 pips, mentre l'everage long, quindi tutti quelli che hanno aperto i long, attualmente si sono sotto, diciamo, 184 pips dal prezzo, perché è 1.15.32, adesso il prezzo è su Euro-Dollaro 1.13.51, quindi c'è, diciamo, la media dei long è questo. Io, sinceramente, non sono mai riuscito a trovare delle indicazioni utili a livello operativo, cioè, un po' di questi dati, sì, sono belli da vedere, però, sinceramente, di questi due dati, non so voi in chat, se qualcuno segue un po' questo tipo di operatività, perché anche se l'indicatore per MetaTrader 4 è stato rilasciato praticamente ieri, comunque queste informazioni sono disponibili sul sito nella modalità Outlook, quindi ci sono sempre state, però io non mi sono mai messo a cercare delle soluzioni per lavorare su queste medie ponderate dei prezzi su questi prezzi medie di carico, quindi quello che un po' mi interessa a me sostanzialmente è la percentuale degli short e dei long e anche capire un po' quali sono gli eccessi, quindi, che cosa ho fatto? Praticamente, sto cercando di lavorare sia l'eccesso che il primo incrocio. Allora, cos'è un eccesso dei retail? Allora, partiamo da Euro Audi, perché questo è sul grafico, allora, io a Euro Audi che cosa ho fatto? Quando vedo che una posizione dei retail va oltre l'80% o da una parte o dall'altra, io inizio ad accodarmi a quella tendenza, voi direte perché? Perché probabilmente quell'eccesso non può durare in eterno, quindi, magari, se si trova il prezzo in una situazione estrema, come può essere magari un doppio minimo o una falsa rottura di un supporto come è avvenuto adesso, ad esempio, su Euro Audi, in questa situazione, Euro Audi, che cosa è successo? Allora, veniamo da un forte downtrend, io fino a qui, quando ci sono, questo sarà sulle 60% delle posizioni e non tocco nulla, però, appena inizia ad arrivare un eccesso all'80%, quindi, l'80%, voi come lo fate a sapere? Vi dovete fare, se sull'indicatore troppo questa indicazione ancora non c'è, quindi lo potete vedere, non lo vedete da qui, da questa finestra, lo vedete da qui, ok? Quindi, in questa situazione, arriva all'80% il differenziale dei vari lotti, quindi si può pensare che magari il cross o il cambio del, in questo caso, si possa trovare in una situazione di eccesso e quindi provare a accodarsi con la maggior parte dei retail, quindi, in questo caso, siamo sotto le Bollinger, su Euro Audi è stata aperta questa posizione, molto, si è sofferti pochi in questo caso, perché è andato a rompere il minimo e poi è ripartito su, è ripartito molto bene. Fino a quando manterrò questa posizione? Allora, nei miei piani c'è quello di cercare di lavorare fino al prossimo accesso, cioè adesso io mi sono avuto la fortuna, tra virgolette, di lavorare bene questo accesso sui retail, quindi sono entrato long, adesso vedete come si sono scaricate le posizioni dei long, cioè chi era, chi è entrato long adesso, pur, e questo è forse il problema grosso dei retail, che entrando adesso long, molti magari escono per prendersi pochi pips e poi escono di nuovo al mercato e appena vedono un nuovo eccesso magari in questa zona magari si lavorano lo swing short e quindi tra virgolette questa parola è molto brutta però rimangono incastrati su un nuovo trend che può partire. Quindi l'idea qual è? Che se io sono entrato adesso qui e le posizioni si stanno scaricando non c'è alcuna ragione per uscire da questo trade perché almeno fino a quando non arriverà una nuova situazione che magari i long vanno qui qui arrivano le short arriverò in questa situazione estrema e allora in quel caso chiudo la posizione e posso pensare di andare short vi è chiara un po' la strategia nel frattempo bevo un goccio d'acqua allora dove si può prendere questo indicatore Michele l'ho fatto vedere molto chiara Gianfranco allora Massimiliano dice io lo sto usando ma al contrario esempio oggi vendere NZD sul daily essendosi formato una barra divergente sì Massimiliano questo anch'io anch'io lo uso così e adesso passo alla modalità del primo incrocio perché questa qui è una modalità ah però io voglio essere come ho già detto nell'altro webinar io non so se questa roba qui funziona perché io la sto provando insieme a voi cioè sono stato molto onesto e vi ho detto guardate io questo eccesso qui io sono stato sempre un trader trend following quindi non ho mai operato in contrarian quindi io non so quanto questa cosa qui possa funzionare va testata io la sto testando con questo conto quindi ho messo a disposizione il conto MyFXbook quindi tutti i giorni faccio gli aggiornamenti e mi sono dato un limite quindi se perde il 30% questo conto quindi circa non so 600 euro io la stop quindi la dichiaro fallita questa situazione perché adesso euro è di bella ok l'ho preso subito il minimo però ci sono situazioni un po' critiche come ad esempio su SDCAD e poi passiamo all'altra strategia dove vedete che qui qualche mal di pancia ve lo può far arrivare quindi una cosa ovviamente adesso queste sono sites piccole però comunque io su SDCAD ho inserito un primo short in quest'area che qui probabilmente ho inserito uno short per l'altra strategia quindi poi sì perché c'è l'incrocio però vedete qui il 94% è short quindi il setup c'è perché siamo oltre le Bollinger abbiamo rotto questa resistenza quindi qui io vado a cercare la situazione estrema cioè mi dico quanto ancora possono durare questa percentuale nel 94% su SDCAD cioè arriverà una situazione con quest'rema in cui magari possiamo arrivare magari anche al 99% delle posizioni ma prima o poi questa situazione dovrà normalizzarsi quindi ci sarà uno scarico delle posizioni quindi che cosa quali sono i due scenari che possono succedere in questi casi è che o saltano tutti gli stop di chi si è messo short quindi non so magari questo 94% e questo forse è il problema più grosso di questa strategia è che questo 94% magari è fortemente short e ha deciso di andarsi a stoppare in una zona di prezzo che ne so facciamo finta che sia questa zona qui oggi sul CAD c'è stato il rilascio dei tassi quindi qui eravamo intorno al 90% e il prezzo ovviamente è salito di molto mettete il caso che i reti hanno diversi stop loss in questa situazione quindi per far diminuire questa situazione o saltano gli stop loss e quindi il prezzo poi continua a salire e la posizione che abbiamo inserito noi in contrarian continua a perdere ma in questo caso se continua a perdere noi vediamo lo scarico questa posizione in perdita va tolta cioè l'errore in cui non dobbiamo cadere io non devo cadere in primis visto che la sto provando io stesso è quella di non andare a lavorare tutto il trend contro perché questo dato qui 94% adesso è ancora buono ma se io domani questo 94% lo vedo al tipo il 60% e quindi c'è stato uno scarico ma il prezzo si è mosso di poco sopra il mio prezzo magari è qui posso presumere che siano saltati gli stop perché o chi era short ha chiuso le posizioni quindi è inutile incafonirsi e cercare di lavorare contro il trend con la situazione quindi in quel caso va protetta quindi o con uno stop loss o viene chiusa la posizione e quindi si pensa al prossimo eccesso perché come avete visto su EuroAD è andata molto bene cioè si è sofferto pochissimo ma su USDCAD può partire un trend molto forte che quindi va comunque protetto quindi in primis per questo io ho la regola dei tre contratti e poi di cercare di monitorare sempre la strategia il filtro dei retail perché se questa qui domani la troviamo al 65% il prezzo si trova qui non è che ci mettiamo ancora short e teniamo la posizione perché magari ricarica soltanto quindi fa un piccolo pullback e può arrivare di nuovo su e iniziano a entrare di nuovo tutti gli altri trader retail e aumenta sempre di più l'esposizione e quindi arriva nuovamente al 95% ma noi magari ce la troviamo a 300 pips lontani dal prezzo di entrata quindi queste cose va molto monitorata e questo secondo me è un limite di questa strategia e quindi cercate anche voi poi di ragionare insieme a me e capire un po' quale possa essere la soluzione migliore esempio Mauro scrive forse serve un ulteriore filtro che ne confermi la direzione sì c'è appunto chi lavora con la divergenza io cerco di non complicarmi troppo in ragionamenti ostruosi nel senso che cioè se il setup c'è io lo faccio però mi sono andato questa regola sì dei tre contratti però magari una cosa intelligente che può essere è fare un'analisi sul weekly su SDCAD vedete io ho queste due mi dico dove può arrivare magari mi mi metto uno stop qui ok magari mi metto uno stop antirovina sul weekly sul primo sulla prima resistenza importante e giorno dopo giorno magari mi vado a monitorare le percentuali e quindi la diciamo la disciplina richiesta in questo caso è quella di andare a di non incapponirsi nel 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 controtrend e quindi se questa percentuale diminuisce ma il prezzo non va dalla nostra parte allora bisogna comunque andare a chiudere la posizione allora un'altra quindi adesso passo all'altra strategia che anche questa per me questo trade era rischioso eh sì sì magari col senno di poi sì però però Riccardo che differenza c'è tra cioè obiettivamente su euro audi stessa percentuale cioè si trovano questo si trova sulla parte bassa con un downtrend abbastanza marcato e lì si trova sulla parte alta stessa percentuale eh lo fai però se devi stare dietro a tutte le notizie sì indubbiamente ovviamente non non entrare su proprio prima della notizia magari eh però una volta che la notizia è uscita e che quindi ha già dato comunque quello che doveva dare se la percentuale è lì e c'è il setup bisogna comunque andarlo a negoziare perché altrimenti poi si danno troppi filtri e si trovano mille scuse per non entrare quindi non si entra poi mai perfetto Riccardo se tu riesci a trovare una struttura allora Riccardo dice per me quel trade su USDCAD era rischioso allora io li sto facendo in maniera molto automatica proprio perché sia perché mi serve dare un monitoraggio statistico quindi non è proprio a fini speculativi quindi io voglio capire che tipo di danno posso ricevere da questo tipo di operatività quindi l'unico modo per farlo è andare a operare su tutte le valute però io in maniera molto onesta ti dico anche che sto testando su un conto più grosso la stessa strategia per vedere un po' il mio mal di pancia perché come dicevo io siccome sono sempre un trader trend following a me non piace negoziare contro trend quindi ho aumentato un po' le sites e su USDCAD oggi sono entrato short e questo è un errore perché mi ero dato come setup di venderlo quando lo vedevo sulla bollinger alta però sono entrato qui perché mi sono fatto ingolosire dalla percentuale alta perché qui eravamo intorno al 90% e quindi l'altra poi entrata l'ho fatta oggi in SEL dopo il rilascio delle notizie e quindi qui per me il setup qui c'è sulla prima entrata no cioè qui magari potevo aspettarmi una falsa rottura di questo qui di questo massimo e poi decidere di entrare però qui secondo me l'entrata per questo tipo di operatività per me c'è tutta poi ripeto che comunque bisogna seguirlo con attenzione ok allora allora l'altra entrata che mi è stata anche suggerita da qualcuno di voi in chat e che è quella che piace anche a me che ho sempre fatto su euro dollaro è quella di cercare il primo incrocio cioè che significa il primo incrocio guardate qui che bel segnale allora perché perdersi questi segnali allora quando c'è il primo incrocio delle posizioni tra long e short come in questo caso si può cercare un setup ribassista perché ribassista perché la maggior parte è entrata long quindi non siamo ancora su livelli estremi e quindi si può cercare di entrare a favore di trend in questo caso quindi sarebbe trend following questa strategia per cavalcare il magari un setup fino al raggiungimento di una situazione estrema che può essere in quest'area quindi quando poi magari ritorna al 90% si può pensare di chiudere la posizione quindi questa è secondo me una situazione è molto intuibile perché basta andarsi a lavorare gli incroci però per non farsi male anche qui non bisogna lavorare tutti gli incroci perché che cosa succede questi due valori si incrociano quando magari le posizioni sono su 45 55 49 51 quindi anche qui mi sono dato una regola che quando il differenziale arriva al 60% allora in quel caso se il primo incrocio entra a favore della tendenza e quindi vado contro la maggior parte dei retail in questo caso è chiara questa questa strategia così adesso vediamo se c'è qualche opportunità in real time ok chiara euro nzd e questa cosa qui la noto molto sui cross no contro il cambio contro il dollaro quindi sul cross il primo incrocio quando arriva può essere molto forte come in questo caso euro nzd vedete il primo incrocio però questo è un indicatore che dovete avere su myfxbook se non ve lo fa scaricare è un po' myfxbook perché visto che lo vuole mettere a pagamento adesso ieri è rilasciato la versione beta quindi magari se non me lo fa scaricare perché adesso vi faccio vedere come ho fatto io è perché magari hanno finito le product key e quindi non vogliono più darlo in beta lo daranno a pagamento però questo qui è uno strumento da avere perché per questo tipo di strategia dà delle informazioni molto molto importanti ad esempio questo incrocio su euro euro nzd qui iniziano ad andare long che setup si potrebbe andare a cercare allora l'indicazione si ha qui in questa situazione su questo minimo controllate la percentuale quindi se è del 60% almeno allora iniziate a cercare degli short secondo il vostro setup quindi entrare occhi chiusi no però magari non so mettersi anche in sell stop sull'ultimo minimo questo è il minimo io qui metto un sell stop perché molto probabilmente arriverò con una percentuale di più rialzisti che ribassisti quindi se parte non devo andare a guardare il risparmio di qualche pips ma magari un sell stop in questa situazione può essere può essere interessante allora adesso andiamo a vedere se c'è qualche trade da fare e vi faccio vedere anche come ho scaricato il come ho scaricato l'indicatore però ragazzi non so se funziona perché ovviamente my facebook non è sotto il mio controllo io ieri appena visto l'indicatore l'ho preso al volo perché lo aspettavo da diverso tempo so che tra l'altro salvatore non so se c'è ci sta lavorando sopra per fare una cosa del genere prendendo anche altre fonti non solo ma fxbook quindi se riesce a farlo salvatore poi esce una cosa figa che abbiamo diverse fonti da da più broker quindi è ancora meglio di questo però per il momento allora si scarica da qui quindi da community outlook vedete qui c'è questo messaggio l'outlook data è adesso disponibile nella tua metatrader 4 puoi ottenerlo da qui quindi si clicca qui e poi dovete ovviamente dovete avere il conto collegato a my fxbook e quindi try for free mettere il vostro numero di conto vediamo allora un numero di conto se ce l'ho 990256 0 no 0265 0265 0265 1 8 8 quindi vi compare il il numero di conto vi risulta attivo quindi poi lo scaricate download da qui qui esce l'eseguibile sotto qui vi va direttamente a my fxbook a vedere tutte le metatrader che avete quindi fate la selezione di tutte e fate install qui vabbè io ho alcune chiuse e fate finish ok poi andate su la sezione navigatore fate aggiorna eccolo qui ok my fxbook outlook indicator lo trascinate sul grafico e e qui vi chiede di inserire una chiave la chiave è quella che c'è sul copiata qui e questo è il problema perché se fate copia vediamo se va in colla me l'ha dato avete visto me l'ha dato quindi posso poi decidere di averlo solo sul grafico quindi io chart symbol e quindi ho l'indicazione solo sul grafico cioè solo su euro dollaro quindi se non avete il conto collegato a my fxbook non va non lo so su conti ticmil funziona ma non credo che sia dovuto al broker quindi non so su quali broker lo state provando però su ticmil funziona abbastanza bene se non riuscite a metterlo su tutte le piattaforme che mi interessavano quindi avete poi questo indicatore ok ok vediamo così di fare operazioni anche se purtroppo oggi c'è la chiusura di New York allora facciamo una di eccesso e l'altra proviamo a vedere se c'è se c'è un incrocio un primo incrocio allora bisogna partire secondo me sempre dall'outlook qui perché altrimenti vi dovete scorrere ogni volta un indicatore dove è la piattaforma non c'è qui la piattaforma che sto usando eccola qui altrimenti poi bisogna comunque andarsi a vedere tutti i grafici ci metto un po' per caricare vedete quindi meglio farlo prima dall'outlook e poi andiamo a vedere graficamente come è messo quindi ad esempio allora parte USDCAD che l'abbiamo già visto su cui già sono short a questo NZDCAD NZDCAD 93% short quindi andiamo a vedere NZDCAD allora NZDCAD forse già sono entrato la vostra opinione voi entrereste in questa situazione adesso intanto vedete che primo incrocio ha fatto molto bello qui in questa situazione voi entrereste adesso short su NZDCAD per lavorare questo eccesso qui alzerei il time frame allora vediamo un po' quindi NZDCAD ti alzi Riccardo di quale time frame su quale questo è un H1 H4 ok allora se lo vedo da molto lontano c'è questa resistenza rotta sul daily tecnicamente cioè non so voi allora Gianfranco dice sì entrerebbe short io per la strategia che sto utilizzando questa qui dell'eccesso io qui entrerei comunque a occhi chiusi non ho l'indicatore delle divergenze però magari con un RSI lo puoi vedere lo stesso che indicatore utilizzate per le divergenze accumulatori questi non li uso questo no forse non è questo ah forse no questo Massimiliano è questo l'indicatore che usi per le divergenze sì ok quindi per te qui c'è una divergenza quindi entreresti Pietro dice io aspetto che la prima candela chiuda sotto la linea superiore dopo averla toccata con l'apertura più alta della chiusura ma Pietro su quale time frame sotto la barra del massimo quindi tu entreresti più o meno qui dove ho l'altro cell sostanza ok 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 quindi sì si possono sicuramente adottare queste queste precauzioni perché comunque siete tutti trader esperti e sicuramente avrete le vostre tecniche però secondo me dare un filtro così con capire dove siamo col prezzo si può fare quindi ok chi entra con la divergenza chi aspetta un po' la chiusura o il tocco delle bollinger però per me io qui senza troppi pensieri io qui entrerei short adesso distante da questo prezzo 74 pips quindi NZD CAD visto che comunque la maggior parte di voi è propenso allo short è meglio andare short su SDCAD perché le bollinger si Roberto su SDCAD sono già short con due contratti quindi NZD CAD vediamo se poi questa situazione situazione rientra nella normalità NZD CAD è un cross molto laterale quindi vedete non è che settimanalmente vedete su un grafico settimanale vedete non è che dia questi trend quindi secondo me non è sbagliatissimo però ovviamente non è una solicitazione all'investimento qui stiamo soltanto ragionando su da trader tra traders quale possa essere il miglior setup adesso però un'altra domanda dove andreste a stoppare queste due posizioni fino a fino a dove le portereste cioè mettiamo il caso che come ho indicato questo parte su dove vi stoppereste perché qui un limite dobbiamo darcelo perché sono entrato con due sell perché se no mando a farsi benedire tutto il money management quindi anche la gestione del rischio io qui per il momento lo stopperei qui non so voi ti metti una trendline sotto al supermento si va sì anche la trendline mi piace come tu dici in questa situazione cioè ti tracci una trendline così quando arriva qui shorti massimiliano questa mi piace allora massimiliano dice che siccome vado a entrare sotto alla la barra del massimo di oggi lo stop lo va a mettere lì sopra quindi lo metteresti su quest'area giusto vediamo se aspetta che ho quindi intorno 0 92 65 ok sì conservativa sì approvo perché ovviamente tu adesso non saresti entrato però avresti aspettato il ritorno e quindi ritorno sui minimi se ho capito bene e poi ti vai a stoppare lì perché digitando se deve scendere comunque scende deve scendere altrimenti amen sì può essere una soluzione io per il momento la tengo così però perché comunque diciamo che adesso il conto è andiamo a vedere su myfxbook che sta facendo adesso in fase di drawdown allora il primo mese ha fatto molto bene con oltre 500 pips adesso è in sofferenza però comunque il drawdown è molto basso 0,96% quindi questo quando arriva al 30 io stoppo tutto allora Roberto dice userei mi stoperei anche con tre deviazioni standard ma usi sempre le bollinger oppure no queste sono settate su che deviazione allora Roberto usa la deviazione a tre periodi cioè quindi tu sul daily ti stopperesti in quest'area 0,9342 per questa strategia sì ok che io ne faccio tesoro di questi consigli perché poi riesco a adattarli poi a questo progetto così magari proprio perché il grosso problema è proprio la gestione un po' come tutte le strategie contrarie di capire un punto da dove uscire quindi e quindi sì piace sia la deviazione standard sia il fatto di mettersi sul daily sulle divergenze non molto perché non le seguo particolarmente dicono anche sul CSI qual è? questo ma sulle divergenze poi non vi trovate che quando sale il trend fa sempre continuo divergenze ho aspettato un punto preciso perché a meno che poi non le so vedere bene però vediamo tipo per voi questa è una divergenza non so sulle divergenze ho qualche riserva però magari è un mio limite poi se avete qualche strategia ok quindi bisogna andarla a vedere solo su grafici ok quindi questa qui è una divergenza giusto quindi siamo in divergenza mi dicono solo su time frame alti ok quindi divergenza qui tutti quanti short ok lo stop a 3 deviazioni standard roberto scrive entrare sempre 50 pips sopra le due versioni standard e lo stop a 3 deviazioni standard ah cioè tu entreresti quindi utilizzi due due bollinger con sell limit ho capito ah ok ti crei questa sorta di cioè tipo c'è quando arriva a questo limit tu dici 50 pips entro short con una sell limit e poi lo stop solamente a mettere sulla sulla terza di aviazione standard beh sì può essere magari roberto se poi sei in chat ci fai vedere qualche statistica su che statistiche hai con questa strategia in questo con questo tipo di approccio che è interessante allora che ho fatto ho tolto l'indicatore allora adesso vediamo l'altra strategia quella del primo ingresso vediamo se c'è qualcosa ho tolto speriamo che adesso me lo dà aspettate che metto un attimo la la chiave altrimenti non non fa non mi fa entrare ecco mannaggia forse vi dà anche a voi questo problema qui che praticamente se lo togliete per sbaglio e poi mettete la chiave non me la riconosce più questo è un po' il problema delle versioni beta stesso problema ok allora comunque un piano B perché ce l'ho su altri grafici quindi lo vediamo da qui entro su quel conto adesso andiamo a vedere se c'è comunque un setup che magari non c'è nulla avete lo stesso problema eh sì questo è il problema delle versioni beta però sicuramente io credo che a giorni uscirà la versione a pagamento speriamo che sia un prezzo onesto vedete buy now non so sì avete lo leggo in chat che avete lo stesso problema allora euro dollaro euro dollaro ah ce l'ho proprio qui ecco andiamo a lavorare su euro dollaro andiamo a vedere un po' sul laterale perché vedete quanti incroci sporchi cioè qui una regola bisogna darsela perché se no si entra continuamente si entra si esce e quindi non si prendono solo stop allora io su questo l'avevo già fatto il sell sull'incrocio di 60 e sono entrato in quest'area cioè l'ho visto sulle bollinger alte sulla parte alta delle bollinger e sono entrato sell e qui secondo me allora una regola a cui pensavo è quella di andare a identificare un supporto ed entrare con una sell stop non so quanto possa essere valido come approccio però lo proverò su quel conto lì lo sto provando con questa situazione in questo caso io qui ho aperto la sell perché c'era già la situazione di 60% long quindi invece se avessi optato per l'altra soluzione cioè entrare sotto il minimo adesso il prezzo mi sarebbe andato contro quindi perché sarà entrato short non so anche voi se avete altre idee su degli approcci con questo tipo di tecnica magari può essere utile per tutti allora intanto io comunque vado a vedere se c'è qualche qualche altra cosa oltre l'outlook di più di più di più di più di più 52,48 questo è quasi di yen vediamo un po' di yen ad esempio se us di yen se us di yen adesso fosse sul 60% io qui su questo swing io qui sotto uno short ce lo faccio è un po' come allora lo swing è un po' l'entrata che faccio io sul sistema antigriglia che stasera non lo spiego però nel prossimo poi ne parliamo anche perché comunque non è che stia dando chissà quali 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 performance perché comunque il mercato su euro dollaro non ha preso ancora direzione però su g swing secondo me io potrei optare per questa cioè opterò per questa situazione di entrata sotto un supporto importante cioè in questo caso abbiamo quest'area qui questa e poi c'è proprio il minimo questo qui quindi si può pensare in questi tre modi però sicuramente questa forse è un'entrata più aggressiva ma c'è di contro che entrare sotto il minimo qui e ti perdi comunque 60 pips e se già sei al 60% e questo comunque è un diciamo uno swing un tentativo di swing rialzista piazzarsi sotto il minimo di questa situazione e qui non è sbagliato poi non so con questo tipo di entrata secondo me è solo in breakout oppure cercare una divergenza come fate voi però come fanno alcuni di voi però non non so tipo ad esempio andiamo a vedere un po' la divergenza visto che state facendo incuriosire dove è quello l'hounson e qui sostanzialmente massimiliano correggimi se sbaglio non c'è nulla ancora per entrare short niente ok vediamo su altri time frame no questo ancora ribassista quindi tu aspetteresti un po' questa situazione qui una cosa allora io quando inizio questi progetti qui sono sempre molto scettico quindi controllate sempre che non ci siano illusioni ottiche cioè che cosa voglio dire il primo controllo che bisogna fare è sulla percentuale e verificate sempre dall'outlook che effettivamente da qui dall'outlook che ci sia il primo incrocio perché magari graficamente ci può essere anche un bug perché guardate l'ho notato adesso che ho fatto lo switch qui c'è l'incrocio lo metto su H4 ok l'incrocio non c'è quindi fate attenzione a queste cose qui e se lo lavorate sull'H1 continuate ad utilizzare su H1 e fate sempre il check sulla percentuale perché quella non sbaglia perché lì se è il 60% o il 60% come in questo caso qui poi se ve lo volete vedere anche dall'outlook l'ho fatto vedere anche la scorsa volta dovete abilitare il flash quindi consenti e ricarica e c'è quindi in tutta quest'area qui si potrà provare lo short almeno secondo questa indicazione allora vediamo l'ultimo e poi chiudiamo vediamo se c'è qualcun'altra euro yen euro yen come si è messo euro yen euro euro yen euro 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 Allora, l'incrocio c'è stato qui. Allora, vediamo se c'è la divergenza. No, nulla. Lo guardo con... Qual era l'altro CSI? CCI, non so cosa si chiama. È una divergenza, giusto? Adesso vediamo... Poi vedo anche Eurocard come è messo con la percentuale. Ok, allora, vediamo Euro-Yen se effettivamente lo short... Questo short entro... Short sul primo cross, quindi lo faccio dal termometro in questo caso. Cioè, avete capito? Entro su quella divergenza segnalata. Quindi, Euro-Yen short... E anche qui lo stop... Per il momento la metto qui, poi vediamo se cambia un po' la situazione. Ok, vediamo Eurocard come è messo con i Retail. Mentre su questo conto... Metto il ser stop qui sotto. Così, abbiamo due. E siccome mi piaceva anche NZDCAD... Su questo qui... Ho suddiviso i conti, allora praticamente voglio capire un po'... Su questo conto qui faccio solo Contrarian. Quindi NZDCAD era ottimo come modalità Contrarian. Lo devo solo trovare, NZDCAD. Short... E vediamo un po' come va. Allora, invece qui metto la ser stop sotto questo swing. E allora... E vediamo Eurocard, come dice Roberto. Ancora meglio sarebbe andare short su Eurocard, perché oltre all'eccesso è sotto la media mobile 200, al contrario di USDCAD che è sopra. Allora, andiamo... Eurocard... E... Ogni volta cercarli... Eurocard... Ok. Allora, graficamente va bene, però la... Per quanto riguarda il tipo di progetto, quindi per questo tipo di strategia, Io ancora non vado short, proprio perché Eurocard è al 71%. Però da monitorare se arriva... Se dovesse arrivare all'80%, su Eurocard si potrebbe pensare di andare in tendenza, quindi farlo short. Assolutamente. Va bene ragazzi, allora io direi che va bene così. Abbiamo sforato l'oretta di webinar. Allora, mercoledì prossimo continuiamo sempre con questa sessione operativa, spero che vi piaccia il format che ho pensato comunque di confrontarsi, e quindi vediamo un po' sempre questi progetti come vanno, nel bene e nel male, li vediamo insieme durante questa sessione operativa. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata.